E' un grande piacere dare il benvenuto a questa nostra conferenza alla Presidente della Camera Onorevole Laura Boldrini che ci intratterà sul tema per una nuova cittadinanza europea. L'invito della Presidente Boldrini si è configurato come iniziativa congiunta del Presidente Maffei che per primo invitò la Presidente ad essere tra di noi per una conferenza e successivamente quando io divenne Presidente ebbe il piacere e l'onore di confermare l'invito stesso con un ringraziamento alla Presidente per aver accettato noi il nostro invito. Il Presidente Maffei presenterà brevemente la relatrice ed io mi limiterò ad alcune brevissime considerazioni sul tema con riferimento ad un documento che ahimè a mio avviso è stato dopo la sua approvazione se non dimenticato certamente piuttosto lasciato in secondo piano che è la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Penso che questo sia un documento importante. Non so se la Presidente Boldrini si riferirà anche a questo documento ma certamente lo stesso fa parte di un brano importante e significativo di storia europea. Noi tutti oggi siamo preoccupati di quale possano essere i destini dell'Europa dove un riflusso verso le nazionalità è tale da offuscare le prossime celebrazioni dei trattati europei ma pur sempre noi siamo fiduciosi che l'Europa saprà alla fine riprendere quella strada di costruzione basata sulla solidarietà alla quale noi tutti abbiamo fidato molte delle nostre speranze. Sono certo che la Presidente Boldrini ci porterà elementi nuovi di preoccupazione forse da un lato ma anche di incoraggiamento dall'altro. Grazie ancora, grazie a tutti gli intervenuti e in particolare alle autorità presenti e in particolare al Professor Grossi che rappresenta la Corte Costituzionale. Vedo anche il Professor Diallo, Presidente Merito della Corte e ringrazio tutti i presenti. Passo adesso la parola al Presidente Maffei che brevemente tracerà il profilo della nostra relatrice. Buonasera, è un onore dire poche parole sull'Onorevole Laura Boldrini che è la Presidente della Camera perché è un personaggio molto noto sia per la sua attività politica che per la sua attività vogliamo dire sociale, la sua preparazione diciamo alla vita della nostra Presidente della Camera è una preparazione molto originale perché mentre studiava la giurisprudenza divise i suoi studi fra gli studi che poteva, tra la cultura che poteva ottenere indirettamente diciamo dal libro per intendersi, alla cultura che poteva invece ottenere direttamente dall'uomo. e così viaggiò molto, viaggiò nel Sud America e poi dopo anche successivamente in Oriente in maniera che conobbe tutte queste popolazioni e conobbe come vivevano, conobbe i loro problemi e questo a mio parere può darsi che sia un'interpretazione errata, è una base della sua attività futura cioè il problema degli altri. La sua carriera fiorisce diciamo proprio già dalla giovane età perché per concorso lei diviene un Junior Professional Officer e comincia la sua carriera nelle Nazioni Unite lei fa sostanzialmente la giornalista ma ogni problema che affronta lo porta a essere importante perché lo evidenzia, dice ecco questo è un problema importante e questo continua a farlo anche nei suoi successivi incarichi molto più impegnativi come quando lavora presso il programma alimentare mondiale e anche qui ne fa una cosa importante e poi il suo incarico che l'ha resa molto nota diciamo anche al grande pubblico quando nel 98 fino al 12 prende l'incarico di portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e anche qui è responsabile della stampa ma per tutti i paesi del Sud Europa ma lei dico una parola che forse non dovrei usare sfrutta questo suo ruolo per portare diciamo il problema dei rifugiati all'attenzione del pubblico e mostrare i problemi, cosa si dovrebbe fare e cosa non si dovrebbe fare e per questo diviene notissima e gira il mondo fa convegne in moltissimi paesi insomma che io qui riassunto che vanno dall'Albania al Burundi alla Tanzania per dire dove questi problemi diciamo sono più cocenti i suoi riconoscimenti insomma sono numerosi e ne cito solo alcuni intanto è il medaglio ufficiale della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica nel 2004 la signora Boldrini è una signora molto giovane nel 2010 il settimanale ecco questo lo voglio rimarcare famiglia cristiana gli dedico un riconoscimento speciale che a parer mio la descrive donna dell'anno 2009 e voglio leggere quello che è la ragione di questa lezione costante impegno svolto con umanità ed equilibrio a favore di migranti rifugiati richiedenti asilo della dignità e fermezza mostrate nel condannare i respingimenti degli immigrati del Mediterraneo effettuati nell'estate del 2009 questo è famiglia cristiana ha scritto diversi libri non so dove trova il tempo di fare tutte queste cose ma insomma ha scritto diversi libri il primo Tutti indietro che risale al 2010 narra la storia è una storia secondo me che la descrive racconta la storia di un afghano di 20 anni che per fuggire dai talebani viene verso l'Europa ma il suo viaggio è lunghissimo dove nove anni dopo nove anni giunge in Italia ma non è trattato bene e in quella occasione il libro descrive che le istituzioni non si comportano come si dovrebbero comportare questo giovane diciamo che disperato che è arrivato dopo tante difficoltà in Italia ma è più la gente il popolo e in questa occasione voglio anch'io ricordare che l'Accademia anni fa ha dato un premio particolare il nostro più grande premio che si dà per un'altra impresa morale proprio a Lampedusa per le stesse ragioni dove il popolo la gente è entrata e ha aiutato i rifugiati che lì sbarcavano e ricordo voglio ricordare che la sindaca di Lampedusa venne qui e fece un discorso addirittura commovente dei problemi che erano a Lampedusa e come loro si comportavano quindi la gente e poi ha scritto anche altri libri il secondo libro che ha scritto che risale solo le montagne non si incontrano mai è questo della bambina anche questo molto noto della bambina somala che è ammalata viene portata in Italia da un militare poi riconosce per strane cose in chi l'ha visto il padre e la nostra presidentessa l'aiuta poi a ritrovarlo in Kenya e poi un altro libro che invece descrive nel 2015 la sua diciamo esperienza alla Camera io vorrei inquadrare diciamo è una persona diciamo diversa dai normali politici che conosciamo diversa per cultura se potessi dire così una parola sempre impropria in queste occasioni direi ma un'umanità più più umana ecco e anche quando parla di futuro quello che si deve fare domani cosa parla la Laura Boldrini parla diminuire le disuguaglianze diminuire le ingiustizie e questa è la sua linea principale aiutare gli altri grazie buon pomeriggio a tutte e a tutti io saluto e ringrazio il presidente dell'Accademia il professor Quadro Curzio ringrazio il vicepresidente il professor Maffei per anche la descrizione le parole che ha usato nei miei confronti in fondo ha ragione nel dire che io sono un po' una presidente anomala rispetto ai miei predecessori ma questi sono i tempi che ci è dato vivere viviamo in un tempo diverso dove appunto la politica probabilmente per cercare di accorciare questa grande distanza che si è creata tra la società e chi la rappresenta ha dovuto far ricorso anche a figure esterne al tipico assetto politico e dunque per questo motivo ritengo che oggi rivesto questo ruolo così importante e che mi onoro mi onoro di rivestire ecco oggi io sono stata chiamata qui per affrontare un tema molto articolato un tema che è anche complicato in un certo senso da sviluppare per cui vi chiederò anche di essere pazienti sul fatto che mi ci vorrà un po' di tempo per riuscire a affrontare tutte le sfumature che sono intorno a questo tema partiremo dal tema dell'Europa ma su questo grande tema mi è stato chiesto di sviluppare un aspetto quello della cittadinanza europea la cittadinanza europea e per fare questo io vorrei partire da una frase che non è mia e che è bellissima e la vado a citare la via da percorrere non è facile né sicura ma deve essere percorsa e lo sarà ecco questa frase questa frase è la frase conclusiva del manifesto di ventotene il manifesto di ventotene parliamo del 1941 ecco mi colpisce il modo in cui viene scritta com'è possibile essere così assertivi nel 1941 quando si è al confino obbligato in una piccola isola e quando in Europa fioccano le bombe i paesi europei si fanno la guerra e qualcuno da quella piccola isola dice che questo percorso deve essere fatto e si farà ed erano le parole chiaramente di Altiero Spinelli di Ernesto Rossi di Eugenio Colorni e di Ursula Ischmann Ursula Ischmann che non viene quasi mai menzionata quando si fa riferimento al manifesto di ventotene che collaborò invece a scrivere e che grazie a lei oggi noi conosciamo se non fosse stata lei presente nell'isola probabilmente quelle pagine quei pensieri non sarebbero mai arrivati a noi e allora penso che la storia ha dimostrato che avevano ragione erano visionari sì ma avevano anche ragione avevano ragione e la costruzione dell'Europa federale è stato il più importante progetto politico dalla seconda guerra mondiale ad oggi non credo che ce ne siano altri considerabili più importanti ecco i valori di libertà e di solidarietà appunto che hanno animato fin dai suoi sordi questo progetto questo progetto europeo sono anche un punto di riferimento sono stati e sono ancora quei valori un punto di riferimento che hanno fatto appunto grandi l'Europa noi siamo diventati punto di riferimento noi Europa grazie a quei valori grazie a quella grande intuizione ecco e chi crede nella democrazia chi ha creduto e continua a credere nella democrazia e nello Stato di diritto si ritrova in quei valori valori di libertà e valori di solidarietà ribadisco di libertà e di solidarietà ecco com'è stato questo progetto finora è stato un progetto bello è stato un progetto alto ed è stato un progetto inclusivo e già perché eravamo in 6 eravamo in 6 e siamo arrivati a 28 abbiamo un unico Parlamento che è eletto direttamente dai cittadini in 19 paesi abbiamo la stessa moneta e abbiamo anche in 22 paesi la libertà di circolazione i cosiddetti accordi di Schengen ecco grazie anche a questo specialmente la libertà di circolazione che oggi i nostri figli possono vivere esperienze straordinarie credo che ognuno di noi qui o ha direttamente figli o nipoti o conosce qualcuno che l'ha fatto ecco questi nostri giovani possono fare esperienze in altri paesi e costruire il progetto europeo il progetto Erasmus ha consentito e consente a molti giovani europei di sentirsi europei ed è veramente bello quando si incontrano questi ragazzi e si chiede loro che cos'è l'Europa per loro sentire con quanto trasporto e quanta convinzione questi ragazzi parlano dell'Europa ma ma occorre anche riconoscere che oggi oggi stiamo vivendo forse la fase più critica la più oscura la più difficile di questo progetto europeo e lo dico sia perché ognuno di noi lo capisce ogni giorno lo percepisce direttamente ma anche dopo aver visitato di recente le istituzioni europee ho trovato grande preoccupazione in tutti i rappresentanti istituzionali e si capisce che c'è crisi perché la sfiducia la sfiducia e il disagio sociale che derivano anche da un assetto europeo e da scelte politico-economiche che sono state fatte negli ultimi anni ecco questa sfiducia poi crea crea e alimenta movimenti populisti movimenti nazionalisti e perfino movimenti xenofobi e questi movimenti hanno in comune l'agenda anti-europea questo è il fil rouge che tiene insieme nei vari paesi tutti questi movimenti si sta in Europa per distruggere l'Europa unico obiettivo è disintegrare il progetto politico ecco poi ci sono anche governi che non aiutano non solo movimenti politici o parapolitici ma ci sono anche governi che non aiutano voi sapete che ci sono governi come non è un segreto l'Ungheria e la Polonia che sono stati criticati duramente criticati per iniziative che ledono i principi dello Stato di diritto che sono appunto quei principi a fondamento dell'Unione Europea e poi c'è la Gran Bretagna la Gran Bretagna che adesso appunto chiederà ai propri cittadini attraverso un referendum se stare o no nell'Unione Europea ecco voi ricorderete certamente che pochi mesi fa si è rischiato di consentitemi questo verbo che forse si potrebbe considerare improprio ma rende l'idea si è rischiato di espellere la Grecia dall'Eurozona e già perché c'era chi questo voleva chi questo chiedeva apertamente di espellere la Grecia dall'Eurozona ecco vi immaginate le conseguenze e il messaggio che sarebbe passato espellere un paese dall'Eurozona abbandonarlo al proprio destino e guarda un po' il paese che ha dato i fondamentali della civiltà europea sarebbe stato disastroso non solo per la Grecia ma sarebbe stata una falla pericolosissima anche per l'intero assetto europeo ecco non è stata l'unica circostanza in cui abbiamo vissuto una brutta pagina non è stata l'unica circostanza l'arrivo di oltre un milione di richiede anti asilo che si sono messi in marcia silenziosamente dopo anni di fuga da un paese in guerra come la Siria siamo entrando nel quinto anno di guerra una guerra che ha causato la più grave emergenza umanitaria della seconda guerra mondiale a oggi ebbene quel milione di rifugiati che silenziosamente si è messo in marcia non potendo neanche più concepire che quella marcia venisse frenata o rallentata dal concetto di frontiera che è un concetto molto labile visto come dire la fase storica che noi viviamo ecco nel momento in cui questo è accaduto si è capito che quello delle richiedenti asilo e dei rifugiati non era più un problema solo italiano o solo greco o solo maltese come per anni ci siamo sentiti dire e appunto si diceva prima lo diceva benissimo il professor Maffei per anni in cui io stessa ho lavorato in questo settore e ho visto morire direttamente ho visto i cadaveri che arrivavano a riva ho visto quanti sforzi la nostra guardia costiera la nostra marina hanno fatto per salvare le vite umane e purtroppo a volte anche non riuscendoci per cercare anche di identificare chi a mare moriva ecco dopo tanti anni finalmente il problema è diventato europeo ci voleva forse questa marcia e ci sono volute migliaia e migliaia di morti perché lo ricordo solo quest'anno nel nostro Mediterraneo sono morte 3.700 persone 3.700 persone più le 3.500 dell'anno prima e più e più e più e se andiamo a sommare tutte queste morti il panorama che abbiamo davanti è decisamente di un conflitto che non è più a bassa intensità ecco quindi dicevo che anche la difficile gestione del flusso dei richiedenti asilo ha messo in evidenza la debolezza del progetto europeo laddove la commissione ha fatto uno sforzo proponendo un'agenda per l'immigrazione e laddove gli stati membri in molti casi hanno ritenuto più come dire facile ma sicuramente non più utile più facile per loro non rispondere a questa chiamata non è utile perché non sarà mai utile un atteggiamento di questo genere sicuramente però è più semplice anche da spiegare all'opinione pubblica chiudiamo la frontiera mettiamo muri fili spinati questo ci dà consenso ragioniamo sulle prospettive di medio e lungo termine questo è più complicato ed è più difficile da far accettare bene ma perché siamo a questo punto perché siamo a questo punto perché non riusciamo l'Unione Europea non riesce a dare le risposte adeguate e allora io penso che bisogna fare autocritica perché altrimenti non riusciamo a trovare una soluzione una via d'uscita a questa situazione di stallo io credo che gli stati membri abbiano investito assai poco sull'Europa hanno investito molto poco sulle istituzioni comunitarie e hanno fatto prevalere gli interessi nazionali hanno preferito ritornare a casa i capi di stato e di governo potendo affermare di essere stati capaci di aver portato avanti gli interessi del proprio paese ma nel medio e lungo termine gli interessi del proprio paese come si affermano rafforzando le istituzioni europee o indebolendole questa è la domanda che io vi sottopongo ecco il non voler condividere sovranità o averlo fatto solo limitatamente ad alcuni ambiti finanza pubblica forse è l'unico ambito e siamo nell'eurozona ma per il resto non vedo condivisione di sovranità questo ha indebolito le istituzioni europee e oggi è inutile negarlo le istituzioni europee stentano fanno fatica a dare le risposte alle sfide della globalizzazione sfide che abbiamo davanti tutte e anche di dare le risposte ai nostri cittadini le risposte che i nostri cittadini si aspettano ecco ma noi siamo ben consapevoli che nessuno dei temi che interessano le nostre società nessuno può essere affrontato dentro i confini nazionali vedete chi dice questo chi propina la soluzione della chiusura fa un torto enorme ai cittadini perché è evidente che tutte le sfide che abbiamo davanti non sono risolvibili a livello nazionale e faccio alcuni esempi riscaldamento climatico come si risolve il tema del riscaldamento climatico a livello nazionale implementiamo buone norme noi e poi i nostri vicini non lo fanno che cosa risolveremo nulla le politiche energetiche i diritti e i doveri di internet tutto quello che è web con quello che accade sul web la grande come dire il grande monopolio che oggi abbiamo degli interessi sul web come pensiamo di regolarli a livello nazionale il controllo dei flussi finanziari e quello che dicevo prima la gestione dell'asilo e dell'immigrazione ecco tutto questo tutto questo non può essere gestito a livello nazionale se vogliamo essere efficaci e non c'è solo questo c'è anche le politiche del lavoro un esempio classico è quello che è accaduto nel nostro paese non solo nel nostro paese con queste delocalizzazioni selvagge guardate io ho incontrato tantissime delegazioni in questi quasi tre anni a Montecitorio di lavoratori che dall'oggi al domani si sono trovati senza lavoro perché l'azienda ha chiuso i battenti e se ne è andata all'estero la delocalizzazione senza regole anche questo dico è un problema che non può essere regolato solo a livello nazionale c'è bisogno di una regolamentazione più ampia e più armonizzata e questo nel nostro paese ha lasciato migliaia di famiglie senza reddito oltre a una desertificazione produttiva in molte regioni del nostro paese e allora servono istituzioni sovranazionali che siano autorevoli che siano democratiche e anche capaci di decidere ma se la dimensione nazionale è insufficiente come abbiamo detto e quella sovranazionale è privata dei poteri necessari allora che cosa succede? succede che appunto i cittadini maturano maturano fortemente una convinzione di inutilità delle istituzioni sia nazionali che europee e quindi un allontanamento perché non si sentono tutelati perché non si sentono protetti ecco la domanda che si fanno e che vedo mi fanno anche a me spesso quando vado nei territori e ci vado quasi ogni settimana è a cosa servono i parlamenti a cosa serve il parlamento se poi succede tutto questo se poi non tutelate i nostri interessi è molto difficile poter rispondere in modo chiaro in modo convincente a questa domanda è molto difficile ecco e per avere delle risposte bisogna avere istituzioni capaci di incidere nelle condizioni reali delle persone e di fronte di fronte a una crisi economica e finanziaria che è stata devastante che cosa ci siamo trovati davanti ci siamo trovati davanti politiche di austerità politiche di austerità che hanno obbligato gli stati a tagliare le spese sociali in tempo di austerità guardate bene noi siamo stati obbligati a tagliare le spese sociali quando c'era più bisogno di avere sostegno per le fasce più deboli per le fasce più vulnerabili e questo è stato chiesto senza valutare in alcun modo l'impatto che quelle misure avrebbero avuto sulla vita delle persone come si fa a chiedere questo specialmente in un paese come il nostro dove non c'è appunto nessuna rete di salvataggio nessuna forma di reddito minimo noi e la Grecia siamo gli unici due paesi a non avere questa rete di salvataggio ma ci hanno chiesto appunto di fare delle scelte molto drastiche che avrebbero comunque penalizzato le fasce più svantaggiate ecco noi ci ritroviamo con ancora milioni di giovani senza lavoro una disoccupazione giovanile altissima tanti giovani italiani che sono costretti ad andare all'estero io li incontro e vivo molto disagio quando vedo questi giovani spesso brillanti spesso iperqualificati costretti a andare via perché non hanno trovato la possibilità di avere un percorso nel nostro paese e questo significa anche che troppe donne sono state penalizzate perché sapete che il nostro paese ha un amaro brutto bruttissimo primato quello che solo il 47% delle donne lavora e nel meridione d'Italia questa percentuale scende drasticamente e questo ha significato anche tante piccole e medie imprese che sono state costrette a chiudere a volte ci sono stati anche appunto atti estremi suicidi di persone che non ce l'hanno fatta a andare avanti a sostenere anche il peso che questo ha implicato ecco io leggo come tutti voi le statistiche che ci vengono presentate e sono molto felice che in Italia ci siano dei segnali di ripresa certo mi rallegro che questo stia accadendo però poi continuo a ricevere delegazioni a Montecitorio come vi dicevo di persone che sono dagli esodati ai lavoratori che si sentono minacciati di perdere il loro posto di lavoro ai giovani di cui facevo riferimento e quindi alle famiglie il cui reddito è drammaticamente precipitato e quindi credo che mi viene proprio da pensare che potremmo dire con certezza di essere fuori della crisi quando saranno gli italiani a dirci di vivere meglio e quel momento credo non sia ancora arrivato ecco è questa sofferenza questa sofferenza sociale che ha prodotto sfiducia e distacco nei confronti delle istituzioni e questo non è accaduto perché c'è troppa Europa se non c'era l'Europa non accadeva questo è accaduto perché c'è troppo poco Europa troppo poca Europa e quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi è stata un'Europa che ha disatteso disatteso le aspettative di giustizia sociale e anche di solidarietà io sono convinta che l'unica risposta possibile l'unica risposta adeguata alle grandi sfide che abbiamo davanti sia non la riduzione del processo di integrazione solo alla dimensione economica non solo alla dimensione economica ma a una dimensione molto più integrata politica appunto e non sia certo il ritorno alle piccole patrie chiudiamoci perché questo ci porterà lontano ecco non credo a nessuna delle due dimensioni cioè stiamo insieme solo per motivi economici né chiudiamoci perché questa ci porterà lontano ecco io penso che nessun paese europeo neanche la Germania che è il paese che ha la migliore economia oggi possa nessun paese europeo possa competere con i giganti globali non non ce la può fare nessun paese oggi ce la può fare mentre l'Europa sì che ce la può fare l'Europa ce la può fare ce la potrebbe fare se però fosse davvero unita l'Europa sarebbe in grado di vincere molte sfide e anche di essere protagonista di primo piano ma per essere protagonista deve essere coesa e unita c'è bisogno di un'Europa politica e perché dico questo perché quando l'Europa è unita conta detta l'agenda lo abbiamo visto a Parigi alla Coppa 21 i 28 stati dell'Unione Europea si sono presentati con un'unica posizione grazie a questo sforzo e allo sforzo fatto dal Presidente Obama si è riusciti a avere dei risultati al di là delle aspettative lo abbiamo visto anche con il negoziato sul nucleare iraniano anche in questo caso l'Unione Europea si è presentata con un'unica posizione quindi quando riusciamo a parlare attraverso un'unica linea allora riusciamo ad essere influenti a contare se invece l'Europa è divisa rischia l'irrilevanza e ogni paese ogni singolo paese è più debole è anche più solo e è destinato a non svolgere quel ruolo che oggi invece è richiesto se si vuole avere un peso nello scenario globale ecco l'obiettivo quindi al quale occorre lavorare è quello di una svolta nella politica economica europea a mio avviso una svolta che sia una Europa politica e un'Europa più sociale ma per avere un'Europa più sociale ci vuole un'Europa più politica perché le scelte che ci portano a mettere al centro l'uomo e la donna non sono scelte tecniche sono scelte della politica se non c'è politica è difficile che si metta prioritariamente il tema della giustizia sociale e della condivisione delle risorse ecco il percorso quindi di costruzione di questa prospettiva chi deve coinvolgere come la facciamo questa nuova Europa coinvolgendo chi lasciamo tutto in mano ai tecnici o forse vogliamo dire qualcosa anche noi istituzioni nazionali noi parlamenti noi cittadini ecco io credo che il processo di cambiamento debba iniziare da chi rappresenta il popolo cioè dai parlamenti e debba iniziare dal coinvolgimento diretto delle persone dei cittadini perché se noi facciamo come dire invertiamo l'ordine noi rischiamo di fare l'errore che è stato già fatto e allora quest'estate sull'onda di una grande irriquietezza che sentivo visto che continuavano a morire le persone nel Mediterraneo e sembrava quasi che fosse una una sorta di routine macabra a cui oramai ci eravamo abituati e quando si discuteva appunto della crisi greca io ho sentito il dovere di fare qualcosa perché oggi rappresento il Parlamento ed è mio dovere non stare a guardare mentre tutto sembra andare male io ho il dovere penso di fare la mia parte nel mio piccolo e quindi ho maturato la convinzione di coinvolgere gli altri miei omologhi in un' iniziativa parlamentare e così che ho chiamato il Presidente del Parlamento del Lussemburgo che aveva la Presidenza del Consiglio europeo sottoponendo all'attenzione l'ipotesi di fare una dichiarazione di principi in cui riprendevamo in mano il percorso di integrazione politica mettendo insieme alcuni aspetti cioè condivisione di sovranità più centralità all'impatto sociale delle misure economiche e Unione federale di Stati come obiettivo unico il Presidente del Parlamento di Lussemburgo è stato subito entusiasta di questo approccio e così ho chiamato il collega francese dell'Assemblea Nazionale il quale a sua volta aveva da poco scritto un libro proprio su questo tema e non è stato difficile convincerlo poi ho pensato che non si poteva fare una dichiarazione senza la Germania perché la Germania è un paese fondatore dell'Unione Europea ed è un paese cruciale centrale e quindi con qualche preoccupazione in più ho chiamato il Presidente del Bundestag Norbert Lammert che appartiene a un'altra famiglia politica e che ha un'esperienza molto diversa dalla mia ha colto il senso di questa iniziativa e non ha non solo non ha fatto nessuna obiezione all'idea ma ha dato immediatamente la sua disponibilità ed è così che il 14 settembre a Roma noi abbiamo firmato una dichiarazione in cui rilanciamo fortemente il il progetto di integrazione politica eravamo in 4 il 14 settembre molto motivati ma in 4 bene questo documento il 22 di dicembre è stato firmato anche dal Presidente del Parlamento Austriaco e con la sua firma siamo arrivati a 10 Paesi che hanno firmato questa dichiarazione certo non siamo ancora a 28 non saremo mai a 28 perché in alcuni Paesi ci sono Presidenti dei Parlamenti che non condividono questo spirito perché fortemente motivati anzi da un approccio più nazionale che comunitario ci ho detto alla prossima conferenza di di Lussemburgo conferenza di tutti i Presidenti dei Parlamenti che si terrà a maggio io mi auguro che riusciremo a avere almeno almeno la maggioranza dei Presidenti di Parlamento almeno 15 ecco e questo è importante perché ritengo che la voce dei Parlamenti non può essere ignorata nel momento in cui si parla di riassettare rimettere in ordine un impianto europeo che ha mostrato tutti i suoi limiti ma non mi fermerei qui perché come ho detto per dare legittimità a questo processo è importante coinvolgere i cittadini dare a loro la parola perché noi l'antipolitica possiamo affrontarla solo attraverso la partecipazione e la buona politica non attraverso l'esclusione e quindi la partecipazione si può stimolare attraverso il web le consultazioni pubbliche è mia intenzione mettere questa dichiarazione a disposizione dei cittadini in una consultazione pubblica che apriremo da qui a poche settimane in cui chiediamo direttamente ai cittadini quale Europa vogliono qual è l'Europa che volete cos'è che va cos'è che non va sulla base di questa dichiarazione che abbiamo sottoscritto ho chiesto di fare questo anche al al presidente al presidente Schulz quando sono andata a Bruxelles e il presidente Schulz è stato molto soddisfatto di questo documento e verificava avrebbe verificato solamente se si poteva mettere sulla piattaforma digitale europea un documento non delle istituzioni europee comunque questo per dirvi che la nostra intenzione è di fare in modo che tutti possano contribuire a questo momento di cambiamento che ritengo debba culminare in un assetto più partecipativo da parte dei cittadini ecco ma potremmo fare molti sforzi ma alla base di tutto ci deve essere il popolo europeo cioè noi dobbiamo fare in modo che si crei una cittadinanza europea un demos europeo perché altrimenti creiamo una struttura ma manca poi chi la abita questa struttura e allora appunto dobbiamo parlare di demos europeo che condivida un nucleo dei valori dei diritti e dei doveri e anche un sentimento di lealtà verso le stesse istituzioni comuni ecco non è una materia che si risolve solo con i trattati o modificandoli o rinnovandoli ma occorre definire una vera cittadinanza comune sia in senso giuridico ma anche in senso politico quale comunità appunto basata sulla condivisione di valori e di principi e allora sul piano strettamente giuridico l'attuale cittadinanza europea è derivata per così dire è derivata non esiste direttamente una cittadinanza europea nel senso che si essi cittadini dell'unione europea soltanto se si è cittadini di uno degli stati membri e quindi è complementare e aggiuntiva la cittadinanza europea rispetto a quella nazionale insomma si tratta a trattati vigenti di un mero accessorio non esiste la declinazione di cittadinanza europea i diritti riconosciuti nei trattati ai cittadini europei come tali cittadini europei come tali non come cittadini degli stati europei sono limitati a pochi ambiti sono ambiti importanti certo ma sono pochi allora il diritto alla libera circolazione e al soggiorno di tutti presso i stati membri il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e a quelle comunali nello stato di residenza il diritto a beneficiare in uno stato terzo della protezione diplomatica di uno degli altri membri nel caso in cui lo stato di origine non si è rappresentato e il diritto di petizione al Parlamento europeo e anche il diritto di rivolgersi al cosiddetto mediatore europeo allora i presupposti per l'attribuzione della cittadinanza variano anche da stato a stato cioè ogni stato all'interno dell'unione ha le sue regole su come e se estendere cittadinanza ad altri soggetti sono regole completamente diverse quindi e tutto si basa sulle legislazioni nazionali o sulle singole costituzioni appunto nazionali quindi non c'è alcuna armonizzazione non esistono standard comuni soprattutto appunto in ambito economico e sociale ecco la disciplina giuridica attuale della cittadinanza europea differenzia nettamente lo status dei cittadini degli stati membri da quello delle persone delle nazionalità non europee ad esempio c'è una differenza su come sono trattati i cittadini degli stati membri da come sono trattati i cittadini che non sono appartenenti agli stati membri e così si ignora completamente il problema dell'integrazione europea dei cittadini extra europei nei cui confronti si applicano esclusivamente le disposizioni costituzionali e legislative nazionali e così mentre alcuni paesi prevedono misure che agevolano l'inserimento politico e l'integrazione effettiva dei migranti mediante il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni locali e anche mediante delle procedure e dei tempi certi per il conseguimento della cittadinanza in altri invece in altri paesi tutto questo non accade tutto questo è molto più difficile perché il principio di cittadinanza è rigorosamente ispirato dallo ius sanguinis o da criteri discrezionali quindi il quadro è totalmente disomogeneo rispetto alla cittadinanza è evidente che questo risulta cioè un quadro come questo poi mette in evidenza delle sfasature nell'impostazione dei trattati tra la previsione di un'armonizzazione che c'è nei trattati anche se ancora a livello iniziale sulla politica dei visti e la politica dell'asilo nei trattati questo c'è e invece si affida in toto ai singoli stati membri le regole per l'acquisizione della cittadinanza quindi c'è qualcosa che non quadra perché? perché è una visione antistorica perché è una visione che ignora la trasformazione delle nostre società le ignora perché allora magari erano comunità omogenee ma oggi di fatto sono comunità composite e dunque quella dimensione lì diciamo che non facilita il compito della convivenza civile ecco sul piano politico nei trattati si stabilisce che i cittadini europei sono direttamente rappresentati nel Parlamento europeo e che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e poi si stabilisce anche come possono essere organizzate delle consultazioni pubbliche il Citizens Initiative che è la possibilità appunto di fare delle consultazioni delle petizioni di firme che riguardano un milione di cittadini per invitare la Commissione europea ad adottare degli atti giuridici cioè i cittadini decidono che su un certo tema la Commissione si deve esprimere allora si fa una raccolta di petizione attraverso gli stati dell'Unione europea e se si raggiunge diciamo il milione ecco in teoria queste proposte dovrebbero avere poi un seguito ecco io mi limito a ricordare che il voto per il Parlamento europeo avviene sulla base delle singole legislazioni nazionali noi andiamo a votare per il Parlamento ogni paese con una legge sua e questi di liste che sono presentate nei singoli stati membri la lista per i parlamentari italiani viene presentata in Italia giusto quindi questo che conseguenze ha questo ha come conseguenze che i parlamenti europei i parlamentari pardon i parlamentari europei sono considerati come come rappresentanti degli interessi italiani nel Parlamento europeo quindi non come rappresentanti dell'interesse del popolo europeo manca questa concezione di andare a Bruxelles per rafforzare una dimensione europea per tutelare l'interesse dell'Europa e del popolo europeo dell'oggi e del domani ecco raramente poi nelle campagne elettorali quando si rinnova il Parlamento europeo si discute di questo di quale Europa di cosa quale prospettiva europea ma si discute sempre di temi di politica nazionale ed è come se le politiche europee si va allora le politiche europee rimangono sullo sfondo non sono quelle centrali e le politiche diciamo che nazionali hanno la meglio cioè come se l'elezione europea fosse un po' un midterm un'elezione di midterm ma non sono elezioni di midterm noi non abbiamo le elezioni di midterm e l'obiettivo di quelle elezioni dovrebbe essere un obiettivo appunto diverso quindi questa visione è anche favorita dal fatto che mancano dei veri e propri partiti europei mancano dei veri e propri partiti europei che però sono previsti dai trattati ecco quando c'è stata la crisi della Grecia ad esempio è stato difficile per me capire le varie posizioni i punti di vista politici qual era la posizione dei socialisti e qual era la posizione dei popolari dei liberali più che altro sono prevalse logiche di tipo nazionale più che politico ecco questo penso che sia anche un punto che indebolisce molto e quindi come possiamo superare vado a concludere con delle proposte questi ostacoli come si superano come si costruisce una cittadinanza europea da dove cominciamo per diventare dei cittadini europei ecco penso penso che intanto sarebbe importante costituire un diritto un diritto che lega la cittadinanza europea alla dignità delle persone quindi un diritto ad un reddito minimo un reddito minimo quale carattere identitario della cittadinanza europea questo a mio avviso sarebbe un passaggio che farebbe cambiare completamente la percezione dell'Europa agli occhi dei cittadini europei perché nessun cittadino dell'Unione deve essere lasciato solo se l'Unione si basa sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla solidarietà e allora bisogna mettere a disposizione risorse anche minime ma sufficienti a non far perdere la dignità alle persone ecco e come si fa a trovare i soldi perché poi questo ti dicono eh sì magari certo ma chi paga ecco sapete che una forma di reddito minimo è presente in quasi tutti i paesi dell'Unione europea come dicevo prima tranne l'Italia e la Grecia allora io ritengo che si debba invece fare un salto di qualità cioè esonerare gli stati membri dall'occuparsi di questo ambito sociale metterlo in capo alle istituzioni europee e emettere delle imposte su chi inquina per esempio la famosa carbon tax di cui si parla o delle imposte per delle transazioni finanziarie internazionali e attraverso quelle imposte finanziare un reddito di dignità europeo come collante identitaria a dire che in Europa nessuno viene lasciato indietro perché questa è la cifra che ha fatto di noi un continente unico nel tempo il continente dei diritti il continente appunto della tutela del welfare mantenere viva questa tradizione non perdercela come rischiamo di fare ecco poi e questo chiaramente sarebbe un valore aggiunto come dicevo un valore aggiunto che i cittadini europei percepirebbero chiaramente e che farebbero come dire sarebbe qualcosa che farebbe ripensare all'idea dell'Europa che da matrigna come viene percepita potrebbe diventare invece qualcosa di molto più vicino un secondo ambito riguarda all'elezione europea appunto una procedura elettorale uniforme una procedura elettorale uniforme che preveda elezione dei parlamentari europei in base a liste transnazionali identiche per tutti i paesi le stesse liste per tutti i paesi i membri del Parlamento europeo sarebbero espressione del popolo europeo nel suo complesso e non potrebbero essere intesi quali titolari di interessi nazionali contrapposti capite la grande differenza come cambierebbe come cambierebbe e c'è un altro punto bisogna rafforzare il ruolo dei partiti e dei movimenti politici europei cioè questi partiti devono essere europei e devono avere identità europea non devono essere il trasferimento delle sigle nazionali a livello europeo e si devono confrontare con le diverse visioni del mondo della società e dell'Europa come vogliono l'Europa qual è la diversa posizione in merito a questo tema certo è vero ultimamente abbiamo fatto un passo avanti con la designazione dei candidati alla presidenza della commissione che è stata la prima volta alle ultime elezioni e infatti questo sistema ha portato alla nomina del presidente Juncker questo è un passo avanti ma non basta e poi bisogna promuovere un dibattito pubblico europeo e non che sia appunto mirato al futuro dell'Europa al nostro futuro e poi come dicevo bisogna far ricorso più intenso all'istituto dell'iniziativa legislativa da parte dei cittadini sapete finora 6 milioni di cittadini dell'Unione europea hanno sostenuto 51 richieste di avvio di iniziative il citizens initiative come dicevo prima soltanto 3 3 sono state dichiarate ricevibili allora ma questo che significa questo che cosa significa significa che probabilmente i cittadini devono trovarsi di fronte a una capacità diversa di reazione rispetto alle proprie istanze intanto non tutti conoscono questo strumento bisogna renderlo più noto e poi bisogna anche incoraggiare i cittadini a partecipare magari anche attraverso la semplificazione di questi strumenti ecco l'ultimo punto è quello di promuovere appunto un sentimento di identità e di appartenenza europea e questo mediante iniziative specifiche l'Erasmus è una di quelle campagne di comunicazione altre iniziative delle istituzioni nazionali e anche della società civile cioè lavorare di più sulla promozione dell'Europa allora come si fa io per esempio nelle iniziative a Montecitorio quando ci sono eventi pubblici tipo non so il concerto di Natale ogni prima domenica del mese io apro Montecitorio Montecitorio a porte aperte io sono lì ricevo cittadini spiego il sistema legislativo come funziona bene l'inno nazionale italiano apre l'inno europeo chiude allora arrivo a pensare se non sia opportuno visto che quest'anno sono 60 anni no prossimo anno sono 60 anni dei trattati di Roma se in vista di questa scadenza non si possa fare per esempio un programma straordinario di educazione civica europea per gli studenti educazione civica europea alla vigilia del sessantesimo anniversario dei trattati di Roma e un'altra proposta voglio fare il nostro articolo 12 della Costituzione parla del tricolore allora perché non consideriamo l'ipotesi per esempio di menzionare anche la bandiera europea e di inserire in questo articolo l'inno di mameli insieme all'inno alla gioia perché anche i simboli sono importanti per la consapevolezza e allora io ritengo che sia veramente giunto il momento di compiere questo salto coraggioso non abbiamo più tempo da perdere più noi siamo fermi più saranno gli altri a guadagnare terreno coloro che vogliono disgregare e il nostro immobilismo potrebbe essere corresponsabile di questo disegno di come dire di disintegrare l'Europa quindi io credo che noi dobbiamo ridare questo slancio nuovo slancio proprio a questo progetto che 70 anni fa appunto i nostri padri e madri fondatori immaginarono in un momento molto difficile molto più difficile di questo per la nostra Europa ecco noi lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare con i cittadini e per i cittadini io credo che appunto le proposte che vi ho sottoposto siano chiaramente rivolte a questo a fare un percorso per me questo è l'unico percorso l'unica direzione che potrà offrire un futuro prospero un futuro anche di pace ai nostri figli vi ringrazio grazie grazie sentito alla presidente Boldrini che ancora una volta noi già tutti la conosciamo per i suoi numerosi interventi ha dimostrato grande coraggio assoluta trasparenza dei suoi punti di vista delle sue valutazioni e questo è un segno di coraggio è un grande segno di coraggio e convinzioni maturate e profonde certo la questione europea dopo la crisi è diventata una questione molto più difficile di quanto non fosse prima e tra i vari rammarichi che noi dobbiamo avere di non aver utilizzato adeguatamente il tempo che ci era stato dato prima della crisi per rafforzare l'Europa stessa se avessimo colto quella finestra di opportunità intercorsa prima della crisi diciamo i primi otto anni del decennio passato probabilmente non ci troveremmo in queste condizioni nelle quali i stati nazionali per ragioni soprattutto di convenienze e di breve periodo tendono a richiudersi in se stessi io sono fiducioso che si potrà andare avanti sono fiducioso che iniziative come quella della dichiarazione congiunta dei parlamenti europei a cui faceva riferimento la presidente Boldrini siano molto molto importanti perché rappresentano quella strada intermedia tra le decisioni assunte dall'alto e la maturazione della società qual è l'espressione più forte che sta tra le decisioni apicali di capi di stato e di governo e le convinzioni della società è quella espressa dai parlamenti e i parlamenti rappresentano certamente una forza propulsiva straordinaria nel periodo che ci attende probabilmente noi vivremo una fase di duplicità di funzionamento delle istituzioni europee una fase che a livello di capi di stato e di governo si configura come fase intergovernativa e una fase nella quale i parlamenti avranno un'enorme rilevanza per mantenere diritta la barra del comunitarismo e sarà una fase di convivenza non facile non invidio chi abbia nessuno dei due ruoli perché chi ha il ruolo di capo di stato di governo deve rispondere risponde alla sua constituency nazionale chi è parlamentare o responsabile di un parlamento non risponde solo alla sua constituency nazionale ma risponde anche essendo nell'Unione europea una constituency europea quindi auguri sentiti alla Presidente Boldrini per l'impegno che lei svolge come Presidente della Camera dei Deputati italiana ma anche nelle sue iniziative parlamentari europee auguri forti anche perché come lei stessa ha detto la crisi non è affatto finita noi stiamo in qualche modo camminando appena fuori dalla palude della crisi ma non siamo certi che il terreno su cui camminiamo sia un terreno sufficientemente solido grazie ancora noi seguiremo sempre con grande attenzione il lavoro della Presidente Boldrini e il messaggio che lei ci ha lasciato oggi costituirà oggetto di anche inoltre altre riflessioni che peraltro spesso facciamo proprio sulle prospettive dell'Europa grazie Presidente grazie a tutti i presenti